Continueremo a investire, assumeremo persone nel Veneto, quindi continuiamo a provare a fare la Banca del Nordè su territori che sono di una forza, di un potenziale enorme per noi. L'altra faccia del sistema bancario, quella che scommette sulla marca e sul Veneto e che oggi ha illustrato i numeri di un anno difficile ma nello stesso tempo positivo verso l'uscita dalla crisi. Sono i numeri di Friuladria Credit Agricol presentati ai soci al Teatro Verdi di Pordenone. Questo è un bilancio che chiude con 37 milioni di utili, dividendi in crescita, tutti i valori positivi e obiettivi di sviluppo oltre che consuntivo di crescita. Quindi siamo molto contenti perché possiamo dire che in un territorio come quello del Veneto dove eravamo meno presenti, dove stiamo facendo grandi investimenti, puntiamo a diventare una banca di riferimento. E tutto scommettendo comunque nel territorio con un miliardo di nuove erogazioni a famiglie e imprese, numeri che non si sentono da tempo, soprattutto nel mondo delle banche venete. Un confronto inevitabile dove la scelta di Friuladria è semplice e a quanto pare vincente. Noi abbiamo vissuto lo stesso contesto di mercato, facciamo banca da tanti anni come le altre banche. È chiaro che in certi momenti è meglio pensare a fare la banca e concentrarsi su questo. Noi silenziosamente magari facciamo meno notizia se non il giorno dell'assemblea, però credo che ritornare al passato e fare la banca investendo bene i risparmi che ci danno le famiglie sia la soluzione vincente. E questo credo che sia il segreto del credito agricolo in Italia. Grazie. Grazie. Grazie.